In città negli ultimi mesi, negli ultimi anni, probabilmente si sono verificati i fatti di microcriminalità, fatti che comunque preoccupano la città. Lei dal suo punto di vista, lei è il dirigente della squadra mobile di questa città, lei opera direttamente sul territorio. C'è stato effettivamente un mutamento nella condizione della città anche a seguito del terremoto ma comunque negli ultimi tempi o la percezione dei cittadini è una percezione che però non corrisponde esattamente alla realtà? Allora, diciamo, dobbiamo fare una premessa tra il periodo pre-terremoto e il periodo post-terremoto. Dopo il terremoto c'è stato sicuramente un trend di aumento dei reati contro il patrimonio, quindi reati che riguardano più di maggiore allarme sociale per i cittadini, ossia furti, rapine, che sono le principali tipologie di reati che destano maggiore allarme sociale. E quindi il fatto che ci sono diversi centri di aggregazione nuovi negli anni che si sono spalmati sul territorio rispetto al centro dell'Aquila che è rimasto vuoto ha portato i malviventi ad avere maggiori zone dove poter sia rubare che fare delle rapine. Quindi sicuramente da prima il terremoto c'è un aumento negli ultimi tre anni delle rapine e dei furti. Però questo aumento possiamo dire che è abbastanza stabile e quindi se prendiamo un periodo di riferimento statistico degli ultimi tra il 2012-2013, da settembre per esempio, se vogliamo fare una statistica breve, da settembre 2012 a febbraio 2013 è paragonato a settembre 2011 fino a febbraio 2012, vediamo che bene o male abbiamo visto che le rapine i reati più gravi sono le stesse come numero. Ultimamente abbiamo delle rapine e molte sono su Avezzano e sulla Marsica e anche su Tagliacozzo. L'Aquila rimane sempre rispetto ad altri centri, rimane sempre più una zona franca, una zona felice anche perché è più difficile per i rapinatori sia in entrata che in uscita potersi muovere. Quindi magari cercano di farle meno in questa zona. Però ultimamente in effetti abbiamo avuto diverse rapine, tre rapine presso uffici postali e abbiamo avuto ultimamente proprio una rapina a due persone. Una per fortuna è andata, è finita l'altro ieri con l'arresto da parte della polizia del responsabile di questa rapina, un anziano, un signore e poi abbiamo avuto un'altra rapina ultimamente a una donna appunto per strada. C'è stato in generale un aumento dell'aggressività anche in questi fatti di piccola criminalità? Ma io direi di no perché abbiamo molti furti in abitazione, sappiamo anche sia l'anno scorso che quest'anno possono essere, non dico in aumento, ma comunque essere tanti come numero e questi furti di abitazione a volte non sfociano per fortuna il rapina come avviene in altre città nonostante i ladri entrino nelle case anche abitate mentre i cittadini, i proprietari sono a casa non sorprendendoli nel sonno, riuscendo anche a rubarlo a non rubare ma perché svegliati, perché magari dai proprietari, quindi i proprietari si svegliano e riescono a cacciare diciamo i ladri, per fortuna non abbiamo finora diciamo elementi che portano ad aggravare il furto in rapina, però bisogna non abbassare la soglia perché basta un fatto del genere e diventa la situazione ancora più grave. Qualche rapina in abitazione soprattutto nella zona di Avezzano del Tagliacozzo c'è stata. Si può dire che l'aumento di persone che vengono dall'estero, non vogliamo sottolineare insomma la diversità di provenienza, però si può dire che un aumento di persone che forse sono più in difficoltà determini un aumento della criminalità o questo non ha nessun tipo di riferimento con la realtà? No, questo è un fatto notorio, diciamo che da sempre statisticamente prerogativa dei soggetti dell'est europeo, soprattutto albanesi e rumeni, di compiere queste rapine e questi furti, quindi un 80-90% possiamo dire sono commessi da stranieri, ma anche comunque gente locale non disdegna questo tipo di reati, mentre magari soprattutto nella Marsica per quanto riguarda la droga è più appannaggio di cittadini nordafricani. Rispetto al modo di comportarsi dei cittadini, quali sono i consigli che voi vi sentite di dare alla popolazione per non incorrere in rischi ulteriori? Chiaramente le precauzioni da prendere in casa, comunque a volte il lasciare la luce accesa è un trucco che ormai hanno capito anche i malviventi, per cui sicuramente cercare di avere degli allarmi nelle abitazioni soprattutto che sono isolate, lo so che ha un costo magari notevole, però è un deterrente importante soprattutto se questi allarmi sono collegati con la questura o con i carabinieri, c'è questa possibilità tecnica di farlo, sicuramente può essere un aiuto in più. E per chi si muove all'interno della città, quali sono gli atteggiamenti da tenere per non incorrere in rischi particolari? Sicuramente guardarsi un po' più attorno, avere un po' un occhio vigile quando si preleva un banco, ma quando non lasciare la macchina come è successo per andare a comprare magari le sigarette, lasciandola con le chiavi messe perché è successo un caso del genere, subito è stata rubata. Purtroppo c'è gente che gira e cerca solo l'occasione buona per rubare o per rapinare, quindi sicuramente essere attenti e poi chiamare subito le forze dell'ordine se è possibile in modo da cercare un tempestivo intervento qualora succedesse qualcosa del genere. Senta, per quanto riguarda la sua attività in particolare, questa squadra mobile ce la fa a gestire le attività che sono di normale servizio? Una bella domanda, nel senso che rispetto al numero degli uomini i reati sono tanti e anche lì c'è stato un cambiamento negli ultimi anni perché il post terremoto ha portato anche una tipologia di reati contro la pubblica amministrazione che prima non c'erano, legati alla ricostruzione, ai soldi che arrivano per la ricostruzione, quindi agli appalti, tutto questo prima non c'era, invece ora ci sono tante indagini che volte a verificare chiaramente se tutto è a posto e quindi su quel versante, per cui questo toglie risorse anche alle attività solite che facciamo. Cerchiamo di fare quello che è possibile, però in effetti tutte le forze dell'ordine sono un po' in difficoltà perché mancano un po' i mezzi, il numero esiguo, i reati aumentano, quindi al di là di un'indagine che cerchi di portare a termine intanto sono arrivati altri reati, altre denunce, altre indagini da fare, quindi comunque purtroppo è un po' un problema. Per essere in regime di quante persone in più avreste bisogno? Beh vabbè ora non voglio entrare nel numero, darle un numero sarebbe, non sarebbe neanche giusto perché la situazione è comunque in generale a livello di questura problematica perché comunque tutti gli uffici attraversano un momento difficile perché molti colleghi vanno in pensione ma non c'è il ricambio numerico uguale alle uscite, le entrate purtroppo non corrispondono alle uscite è un problema generale, poi ora anche gli aggregati del terremoto sono meno prima avevamo un numero su cui contare del posto terremoto di aggregati a tutta Italia di colleghi aggregati, ora cominciano a essere meno quindi siamo un po' in difficoltà a livello generale. Senta, per tornare un attimo alle rapine che ci sono state negli ultimi giorni la CISL proprio questa mattina ha chiesto un tavolo di coordinamento con il prefetto lei crede che ci sia la necessità di fare questo tavolo interistituzionale per capire qual è il livello di criminalità che sta vivendo questa città? Comunque a livello istituzionale avere l'attenzione alta su questi temi non è mai una cosa negativa per cui incontrarsi, parlarsi, confrontarsi va sempre bene anche perché le istituzioni devono in qualche modo anche rispondere alla gente, alla collettività l'importante è che noi come ufficio investigativo possiamo fare il nostro lavoro in silenzio, in tranquillità come del resto facciamo cercando su ogni rapina di fare le indagini per cercare di scoprire chi siano i colpevoli. Rispetto a prima del terremoto si può dire che l'Aquila non sia più quell'isola finisce che era prima? Beh, direi di sì forse non era proprio un'isola felice però sicuramente si viveva meglio ora c'è una insomma in 3-4 anni c'è stata in effetti una recrudescenza di fenomeni criminali però non bisogna neanche esagerare o creare allarmi sociali la situazione ancora si vive bene un posto dove si vive bene cioè purtroppo si vive male ma per altri motivi per la mancanza di un centro, di una città per i problemi legati alla ricostruzione non per, secondo me, per i problemi legati alla criminalità.